Il libro di cui vi parlo oggi ha un titolo particolare, si pone un interrogativo. Il libro si intitola Esiste l'inferno? L'autore è il pastore pentecostale Luigi Cutri, insegnante anche presso la facoltà pentecostale di scienze religiose, che ci offre un manuale, devo dire, lo suggerisco a tutti quelli che vogliono approfondire questo tema, molto semplice, facile da leggere e che tutti possono in qualche modo approfondire per far capire anche agli altri che a questo interrogativo c'è una risposta. L'inferno esiste e come? Ma io voglio subito partire con un verso che, secondo me, l'autore in maniera sapiente ha posto all'inizio della lettura di questo libro, che si trova in Matteo 13. Vi leggerò i versi che vanno dal 49 al 51. Ascoltate bene, cari telespettatori. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvaggi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Avete capito queste cose? Essi disposero sì. Ora, la domanda che io mi sono posto da un punto di vista personale, dopo aver letto questo manuale, questa riflessione sull'inferno, un argomento diciamo così particolare, spesso noi tendiamo a non parlarne, io mi sono posto la domanda che in questo Vangelo era rivolta agli uomini dell'epoca. Avete capito? Allora io voglio anche rivolgere, come ho fatto con me stesso, a te caro amico e cara amica che ci stai seguendo. Abbiamo compreso quello che Dio vuole dirci in seno ad un argomento particolare come quello dell'eternità. Beh, lì ci sarà una separazione nel momento del giudizio, nel momento in cui saremo richiamati davanti al Padre e noi abbiamo già compiuto la scelta per la nostra vita. Per questo io voglio che tu possa riflettere e comprendere che oggi è il tempo propizio perché tu possa compiere una scelta di fede coraggiosa, quella di seguire Cristo. Ma devo dire la verità che l'autore riesce a snocciolare un tema che potrebbe sembrare così complesso e complicato come quello dell'inferno, quasi come se facesse una traduzione in termini più semplici. E Luigi Cutri, pastore pentecostale, autore di questo testo, ci fa comprendere che è importante parlarne. A volte anche in ambiti cristiani si tende a non parlare dell'inferno come se fosse un racconto di favole, come se fosse una cosa che non ci appartiene. È vero, noi rigenerati dal sangue di Cristo certamente non abbiamo l'ambizione di andare in quel luogo, ma è importante che ci approfondiamo per spiegare agli altri, se non compiono una scelta di fede, quello a cui possono andare incontro. Quindi cari amici, quello che vi voglio dire in questa presentazione, in questo momento di riflessione, è che questa lettura ha portato beneficio a me stesso. Perché sapete, anche io spesso ho voluto non parlare, non approfondire un argomento così particolare, ma in questo libro noi abbiamo modo e occasione di capire che non solo è importante perché noi siamo ferrati, ma soprattutto perché l'autore ci vuole dimostrare che è una verità biblica quella dell'inferno e che noi dobbiamo saper rispondere a quelli che vogliono rigettare il messaggio dell'Evangelo. Sapete, alcune volte ho la sensazione, e questo lo dico perché è una cosa che può capitare prima a me stesso ed è capitata, che noi quando vogliamo dimenticare una cosa il metodo per farlo è quello di non parlarne, è quello di ignorarla. Però sapete, noi dobbiamo combattere il nemico con la forza di Dio, noi dobbiamo combattere il nemico con la parola di Dio, noi dobbiamo combattere il nemico con la preghiera. Il fatto di non parlarne può essere da una parte un aspetto positivo, perché magari noi siamo attratti dalle cose celesti, da argomenti divini, ma è pur vero che questa è una verità biblica. E devo dire che l'autore nelle pagine iniziali racconta un fatto secondo me emblematico, per cui lui poi ha deciso di fare una riflessione su questo argomento così particolare. e questo fatto narra di due pastori che erano dei candidati per guidare una chiesa e sono chiamati a fare due prediche. Predica il primo pastore, poi predica il secondo pastore e alla fine la chiesa sceglie di avere come guida il secondo pastore. E quest'ultimo si interroga e dice ma secondo quale criterio voi avete scelto me? E i fedeli di questa chiesa lo spiegano chiaramente e dicono che hanno avuto la sensazione che il primo pastore li voleva mandare all'inferno, mentre il secondo pastore aveva una predica che parlava ai loro cuori e che li voleva liberare dall'inferno. Ecco, vedete la sottigliezza? L'argomento è sempre lo stesso, però dipende come ne parliamo, a chi ci rivolgiamo. Vedete, una chiesa non ha bisogno, i credenti non hanno bisogno di essere mandati all'inferno. Non c'è bisogno di ricordare a tutti i peccati che si possono compiere o i peccati che sono stati compiuti. Gesù non l'ha fatto. Gesù ha detto Se oggi stesso tu ti penti, ti ravvedi, io posso perdonare i tuoi peccati. E un predicatore deve predicare questo messaggio. Non è un incaricato, un inquisitore, che deve indagare nella vita delle persone per capire se hanno compiuto un'azione malvagia o piuttosto un'altra. Il compito di un predicatore è quello di predicare l'Evangelo, la liberazione nel nome di Gesù. E noi possiamo essere liberati dalla paura dell'inferno. Ecco, questo è un argomento che voglio toccare in questi minuti che ci restano, perché nel libro viene chiaramente spiegato che ci sono dei credenti che hanno realizzato un'esperienza spirituale per così dire superficiale, leggera, ma che devono comprendere l'importanza non solo di approfondire, ma anche di capire che noi non dobbiamo avere paura dell'inferno. Vedete, molti non ne parlano non perché hanno un messaggio alternativo forte da predicare, ma semplicemente perché hanno paura, paura anche per loro stessi. Allora sapete cosa vi voglio dire, cari telespettatori che seguite in questi minuti questa presentazione? Noi non dobbiamo esitare. Chi ha Dio nel cuore non deve assolutamente avere paura di niente e di nessuno. Noi, nel nome di Cristo Gesù, possiamo combattere ogni forza maligna. Ecco, io voglio che questo sia ben chiaro, perché leggendo questo libro del pastore Luigi Cutri io l'ho ben compreso, l'ho ben individuato e ho fatto mio questo pensiero. E devo dire che io ho condiviso con l'autore anche in qualche modo lo scopo con cui ha scritto questo libro. E lo scopo primario per cui l'autore Luigi Cutri ha scritto questo libro e per cui oggi l'ho voluto presentare è molto semplice. Noi vogliamo vedere persone liberate dalla paura dell'inferno. Grazie a tutti.